Salve a tutti amici di TechDifferent, finalmente con Lumia 640XL, un vero e proprio phablet da 5.7 pollici di display, risoluzione HD, processore Snapdragon 400 quad core, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, espandibile con microSD, potete vedere fotocamera posteriore da 13 megapixel con lenti Zeiss, speaker audio posto qua dietro, quindi l'audio verrà un po' attenuato, non è presente il tasto per la fotocamera, quindi il tasto fisico che viene a mancare, sistema operativo Windows 8.1 che verrà sicuramente già annunciato, aggiornato a Windows 10, disponibilità dal mese di marzo, quindi mese in corso, prezzi con 219 euro per la versione LTE e disponibilità nei colori azzurro, bianco, arancio, nero e verde. Davvero davvero interessante, tutte le feature di Microsoft sono integrate, quindi Skype, OneDrive, Office 365 e quant'altro sono tutti presenti, nessun problema di fluidità, davvero molto interessante e sicuramente un prodotto da tenere in vera considerazione. Direi che per questa prima panoramica sul prodotto può essere tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima da TechDifferent, ciao a tutti!